Ciao, sono Gabriele Medeot, ti do il benvenuto a questa nuova lezione di teoria, una lezione molto breve ma molto importante perché parliamo dell'elemento fondamentale della musica, l'elemento senza il quale la musica non potrebbe essere riprodotta e scritta. Le note. Che cosa sono le note? Come si riconoscono? A cosa servono? E soprattutto come poi si devono leggere? Di base è una domanda che può sembrare abbastanza banale, cos'è una nota? Però se ci pensi la risposta potrebbe essere varia o variopinta perlomeno, io ne ho sentite tante. Quindi la nota di base è un simbolo. Nella musica noi ragioniamo per simboli, la musica è un linguaggio, è come la lingua italiana, come la lingua inglese, la lingua francese, la lingua cianese, è una lingua e ogni lingua è propria, ha propriamente dei simboli, dei simboli che in un caso chiamiamo lettere o la punteggiatura, la virgola, i due punti, il punto e virgola nella scrittura, il punto esclamativo, il punto di domanda, sono tutti simboli che mi vengono in mente, che ci servono poi quando andiamo a leggere per interpretare quello che stiamo leggendo, per far capire agli altri l'interpretazione di quello che stiamo leggendo. Nella musica, essendo un linguaggio, valgono le stesse regole. Le note sono dei simboli e i simboli servono per decodificare suoni, suoni che hanno determinate altezze, determinate caratteristiche, come la lunghezza. Quindi un determinato simbolo mi darà una determinata nota, quindi un'altezza, e una determinata lunghezza di quella nota. Ora, questi simboli si disegnano in maniera abbastanza convenzionale, cioè la nota va disegnata come una specie di cerchio un po' schiacciato, un cerchio che va completato, ad esempio, con una gamba, se devo aggiungere dei simboli, o può essere in qualche modo riempito in questa maniera, o al quale posso aggiungere ancora degli ulteriori simboli, degli ulteriori segni, o delle simbologie che possono andare ad indicarmi. Poi lo scopriremo mano a mano, le modalità di esecuzione, ad esempio questo, piuttosto che questo, piuttosto che questo. Tanti piccoli simboli che ritroveremo e che ci sono, e che appartengono anche alla lezione che ho fatto, proprio sulla simbologia appartenente alla musica. Ora, cancello, perché dobbiamo andare a vedere una volta capita come disegniamo la nota, quindi questa sorta di cerchietto al quale aggiungiamo poi gli altri simboli, un cerchietto che deve stare sul pentagramma, le cinque linee del pentagramma, quindi un cerchietto che si deve infilare, ad esempio, sulla linea o deve stare fra le linee. Quando disegniamo la nota questo è importante, sulla linea, vedi, oppure fra le due linee. Bene, le ho scritte anche in tabella perché le note devono essere codificate. Le note vengono definite con questa nomenclatura, semibreve, minima, semiminima, croma, semicroma, biscroma. Ce n'è ancora una, semibiscroma, qua sotto però, non l'ho scritta perché è rara, non l'ho scritta perché questo è lo schema proprio basico, quello fondamentale. Semibreve si indica con un simbolo come questo, quindi una sorta di cerchietto schiacciato un po' all'estremità, vuota, bianca, corrisponde a una pausa, ovvero c'è questo simbolo, questo rettangolino appeso, si appende alla linea del pentagramma, alla quarta linea del pentagramma, e questo simbolo è la trasposizione in silenzio della nota, cioè una semibreve, che corrisponde poi ha questo simbolo, dura quattro quarti. Quindi quando io ho questa nota io so che dovrò contare fino a quattro, uno, due, tre, quattro, mentre la riproduco o se ho la pausa, questa pausa dovrà durare il tempo di contare mentalmente uno, due, tre, quattro. Ora questo procedimento vale tale e quale sulle altre note. La minima è una nota che dura due quarti e la pausa, quindi il rettangolino che viene disegnato in realtà sulla terza linea del pentagramma, quindi qui sulla terza linea, oppure appeso alla quarta, quello da quattro. Te li ho fatti vedere ma te li cancello perché non voglio crearti confusione. Abbiamo la semibreve, nota e pausa, che dura quattro. La minima, nota e pausa, che dura due. La semiminima, nota e pausa, che dura un quarto. Poi scendendo nella scomposizione abbiamo la croma. La croma, questo simbolo, questo ha segno di pausa, un ottavo. E sempre in maniera proporzionale la semicroma, questo simbolo molto simile, però vedi che questa ha una linea, una bandierina, questa ne ha due. Questa è la differenza fra queste due note. Semicroma e croma, croma una bandierina, semicroma due e questa è il doppio, un sedicesimo. Poi andando avanti, la biscroma ne ha tre di bandierine, la stessa pausa, vedi anche questa, una specie di sette. Il sette, la pausa della croma, il sette con le due bandierine, perché due sono le bandierine della semicroma, pausa della semicroma, il sette con tre bandierine, la pausa della biscroma. una trentaduesimo. Ora ti dicevo che esiste la semibiscroma, che si disegna così come la biscroma, quindi uno, due, tre, ma se ne aggiunge un altro, quattro. La stessa cosa per la pausa, sette con una, due, tre e quattro linette, un sessantaquattresimo. Dici, ma dove li uso questi? Li uso nei trilli, quando faccio i mordenti, quando faccio quegli effetti molto molto veloci, in fase pratica, in fase di riproduzione. Quindi, che cos'è la nota? La nota è un simbolo musicale. Mi serve a codificare nome, altezza e durata di un suono. È fondamentale, senza la nota non potrei suonare, non potrei scrivere la musica. Ecco perché è importante anche prendere un po' di manualità. È divertente scrivere le note. Quando scrivo le note, le scrivo nel pentagramma e devo stare attento e devo essere capace di inserirle con la gamba verso il basso, per farle rimanere all'interno del pentagramma, o la gamba verso l'alto, sempre con la stessa regola per farle rimanere all'interno del pentagramma e devo essere capace anche di scriverle esattamente in bilico, in filzate, potremmo dire, no? Sulle linee di pentagramma, aggiungere i vari segni o completarle come più ci piace. Si può fare un po' di pratica, si prende un foglio pentagrammato, magari non stretto stretto all'inizio e si cominciano a inserire queste note. Una volta che le inserisci diventerai sempre più bravo e anche la tua grafia musicale, per quanto possa sembrare una cosa antica e in realtà una cosa bellissima da fare, rimarrà una tua caratteristica. Semibreve, minima, semiminima, croma, semicroma, biscroma, semibiscroma che non te l'ho scritta, con le varie simbologie di durata, le varie simbologie di pause e quindi vari numeri, le frazioni che corrispondono alla durata temporale. Quindi vedo questa, so che si chiama semibreve, so che dura 4 e a seconda di dove è posta sul pentagramma e soprattutto della chiave che ho all'inizio, perché potrebbe esserci questa chiave, potrebbe esserci questa chiave o altro, ma non ti anticipo le cose sulla lezione sulla chiave, a seconda della chiave saprò anche il nome di quella nota. Quindi ricorda che cos'è una nota? Un simbolo, un simbolo che definisce nome, altezza e durata di una nota stessa. Spero che questa lezione ti sia stata utile, puoi lasciare dei commenti qui sotto, magari iscriviti al canale, attiva le notifiche e ci vediamo qui per la prossima lezione. Ciao!